Salve a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti qua siamo io e oggi siamo qui per sponsorizzare il canale di un mio amico Franco Si chiama Derex Trattino Basso Qui immagina questa bellissima rana Non ha fatto video Non ha fatto un bel cacchio Ma al più presto possibile farà di tutto Farà video Anche con me farà video Mi raccomando iscrivetevi, vi mando il link del canale qua sotto in descrizione Da amici è tutto e ciao ciao